Nessun vice premier, come d'altronde già preannunciato, ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è stato il nodo da sciogliere fino alle ultime battute al vertice a Palazzo Chigi, è Riccardo Fraccaro in quota al Movimento 5 Stelle. Il governo Contebis, frutto di un delicato accordo tra il Movimento 5 Stelle e PD, ma con ingresso anche di liberi uguali per favorire una maggioranza in Senato, è composto da un totale di 21 ministri. Di questi, otto sono senza portafoglio, tredici con portafoglio. Dieci sono in quota ai 5 Stelle, nove al PD, un tecnico e uno all'EU. Sette sono donne, di cui soltanto quattro con portafoglio. Ai pentastellati vanno sei ministeri. Luigi Di Maio, agli esteri, è il più giovane della storia con 33 anni. Nunzia Catalfo, è il nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stefano Patuanelli, già capogruppo M5S in Senato, è il nuovo ministro dello Sviluppo Economico. Alfonso Bonafede, confermato ministro della Giustizia. Sergio Costa, confermato ministro dell'Ambiente. E Lorenzo Fioramonti, all'Istruzione, Università e Ricerca. Al PD, invece, vanno 5 ministeri. Economia e Finanze, Roberto Gualtieri. Lorenzo Guerini, alla Difesa. Teresa Bellanova, diventa Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Paola De Micheli, alle Infrastrutture e Trasporti. Dario Franceschini, ministro dei beni e attività culturali con competenza sul turismo. Un solo ministero per l'EU, quello alla salute con Roberto Speranza. Un portafoglio dal forte peso sociale, ma anche politico, e che dovrebbe aiutare la solidità del governo nei passaggi parlamentari al Senato. Infine, un solo ministro dal profilo tecnico, quello dell'interno con Luciana Lamorgese, prefetto di carriera. Ma si tratta di una tessera chiave in qualsiasi esecutivo e ancor più nell'era del dopo Salvini.